ahahah guardate quando la gente per un bucaccio da stanza nostra per la televisione in merda a parte e io ho la parte è lui lui questo qua no quello io e lui lui questa è che le caromunca specialmente lui chi succo pecorelli chi disse il scasso del oggi mi chiamano pacca e chi l'aria proprio di potestà che giuri ernest puria te guarda cagli ognuno io rimango oh io li sto facendo vedere come funziona sta cosa vent'anni e guardate chi fanno cazze che erano coppia le xbox l'ingredibili vabbè chi si scangiano per mettere chi si dice in mesi pur se è nati l'ingredibili e chi sta a rettemi e chi si vuole il tema e chi si vuole il trinitino e' il bordo e' lui sa no tu mi è vero e' affamato il caso di te videro non si fa la prego è l'ecchia e che stai mai stile quando ero ok la porta non è fatta il massimo acqua il massimo la mamma di casa la mamma di casa il quale è 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 il quale la mamma la mamma ahahah il miti che c'era foro vittorio recoglioni posto ricerchiamo scambetto anche a fare questi cellulare qui è un'altra stanza non c'è nessuno scuola carriaro gara vede la cg che riuscì scusa no a te di scusa e la veduccia la scusa ma perché se c'è la la cosa adere chissà vendarne ancora un bel po' il mare ma non è il pergo mangiare il pergo ticp e' un po' e' un po' la la riduzione il po il sd non c'è credito non è la che è disperata papà era di fino a fuori mi sta facendo se due anni la testa la rete scusa non le so apprezzo che ha fatto che ha fatto il mondo non ho mai avuto la polo con me a mamma il tuo bar e allora che dici scusa scusa non c'è la a non non no il mondo pace si fa pace quando è stata la nanz che non mette guerra mangi un bacetto tra il bacetto per un bacetto non metti paura subito subito che cazzo fai è stato scuro oh io vado a questa casa si fanno dormire ok che fattiva spiegoli che sto rubando io non sto facendo un video che c'è 6 o 7 minuti che sto facendo io ci faccio i video troppo bello sono andato a tutti i camera si fanno dormire oh l'ho ripreso ma voi non dovete romper il cazzo però andate nelle vostre stanzia guarda il primo e il terzo e il quarto